Sono Letizia Larmisano, sono una giornalista cosiddetta 2.0, freelance praticamente da quasi quando ho iniziato oltre dieci anni. E ho imparato che è meglio mettere in chiaro una serie di concetti e quindi vi racconterò cinque frasi, più una che non dico a voce ma dissemino per iscritto nelle mail, che mi hanno molto aiutato andando avanti con la professione. La prima è, noi siamo cari perché siamo bravi. Ora, vi devo svelare una cosa, io mi occupo soprattutto di aziende della Green Economy, spero che non ci sia nessun cliente all'ascolto, ma noi proprio cari non possiamo essere lavorando in un settore che per metà è passione e per metà è azienda e quindi ti mettono buona parte della già fare una cosa bella, non puoi anche guadagnarci troppo, anzi. Però con questa frase che dico all'inizio, noi siamo cari perché siamo bravi, io faccio sparire tutti quelli che fanno la concorrenza al ribasso sul prezzo. Io non potrò mai battere anche tutta una serie di società all'estero, sistemi semi-automatici e via dicendo. Io cerco di lavorare sulla qualità. E allora in questo modo io faccio sì che non si vada avanti oltre un caffè o una veloce chiamata su Zoom su chi sta facendo il giro per cercare chi gli fa il prezzo più basso. Anche perché io tendo a investire moltissimo nella qualità, la qualità richiede anche formazione, software e via dicendo e questi hanno un costo. La seconda cosa che dico spesso è che il nostro lavoro, quello mio, anche dei vari professionisti che poi mi affiancano, è sartoriale. Quindi no, non lo posso fare un preventivo in due minuti, perché io mi occupo di fare piani di comunicazione, soprattutto di net branding. Ma siccome non esistono due realtà identiche fondamentalmente, io devo capire quali sono gli obiettivi, la portata, cosa c'è di innovativo. Immaginate, lavoro con aziende della Green Economy che di solito propongono prodotti e servizi in chiave green che magari esisterebbero già nel mercato in chiave non green. Spesso costano pure di più o sono innovativi. E se noi dobbiamo far capire dov'è l'innovazione, devo capirla prima di tutto io e anche individuare una serie di obiettivi che l'azienda si è data non solo riguardo magari social ma in generale. Quindi se mi chiedono, mi chiedono a fare il copia e colla di un altro preventivo? No, non si può fare. Io il lavoro lo devo fare innanzitutto bene e mi richiede anche tante ore fare di solito un preventivo. Dovrebbe essere una vera e propria consulenza pagata in alcuni casi, purtroppo ancora non lo è. Però quindi se uno cerca il low cost e ha una fretta che poi mi mette l'ansia addosso, ugualmente felicissimo di esserci conosciuti, il caffè è buonissimo, non si può fare. L'altra cosa che dico e che chiedo è qual è il budget? I primi anni questa domanda non la facevo mai e passavo notti e giorni a fare tre o quattro ipotesi di preventivo, ma voi immaginate se uno ha mille euro, ne ha cinquemila o diecimila, quale può essere la differenza? Ma anche all'interno dei mille euro o dei cinquemila posso proporre eventi live, due social, tre social, il blog e così via. Se io non so qual è il budget, ho troppe incertezze, già le avrò sul piano di comunicazione da fare, perché magari mi arriva l'azienda che dice mio nipote mi ha detto di fare Instagram, gli dico ma come siamo messi con le immagini grafici, dice noi foto non ne abbiamo, grafici non ne abbiamo, fantastico. Magari Instagram ci nel secondo step fra un anno. Ecco, quindi francamente di solito chiedo qual è il budget e cerco anche di spiegare questa cosa, che è per fare un progetto che rientri nelle loro aspettative immaginando magari di svilupparlo in futuro, che l'azienda vada sempre meglio. L'altra cosa che ho imparato a dire a mie spese, nel senso che le prime volte non lo facevo, è che non mi possono sparire. Avrò sempre bisogno di alcuni feedback, riunioni magari rapide, sì, scusami sempre sbettere, il cugino è sempre il meglio, leggo dei commenti, riunioni magari rapide, periodiche, perché spesso si pensano che io sia una maga, cioè che io abbia indovinato quali sono le novità, cosa è andato fuori produzione, cosa è cambiato. Mi dicono, ma non lo sai? Come dovevo saperlo? Nessuno ti ha informato? No. Appunto, mi ha individuato una persona che ha l'obbligo di informarmi, non genericamente un gruppo, e con cui piacevolmente facciamo una call di 20 minuti e mezz'ora ogni tot. Può essere a settimana o di più, insomma, a seconda dell'importanza anche del progetto. Perché a volte mi si dice, ti do il progetto chiave in mano, ciao, non ho tempo. Anche lì rischierò di fare un progetto che è diverso da quello che la persona ha in mente, ma io ci provo, ma nella mente ancora non riesco a leggere, e quindi la persona magari poi mi sarà insoddisfatta. L'altra cosa che poi dico quando mi dicono, guarda, mi serve questa cosa secca, anche se so il budget, e dico sempre, ti mando anche un'altra proposta, se posso pure tre. Questo lo faccio, sinceramente, un po' in cambia tutela, perché spesso, soprattutto con un budget limitato, si sceglie un tipo di attività, ma poi ti chiedono in continuazione, mi puoi fare anche questo e quest'altro, dai fammi un'eccezione e così via. E io di eccezione ne faccio veramente tante, ma se ti ho fatto un piano, magari che parte dal tuo budget, A, poi anche un B, e eventualmente un C, e ci stiamo avvicinando pericolosamente all'attività B, ti chiedo in una riunione, se forse le esigenze aziendali non sono cambiate, ed è importante a questo punto passare ad un budget e tipo di attività superiore. Una parte accetta, un'altra parte si ridimensiona nelle richieste, perché avendo sin dall'inizio questo piano scalabile, non possono dire di non sapere che in effetti ad attività diverse corrispondono anche necessità economiche e risorse diverse alla base. E l'ultima cosa, questa mi dispiace non farvela vedere, ma ve la racconto, io vengo inseguita, non avendo un solo cliente, ma tanti, vengo inseguita, email, telefonate, hangout, messaggi su Facebook, Whatsapp, Telegram. Ho provato a dire in ogni modo a tantissime persone, ovviamente con messaggi anche alle 10 di sera, e il seguente alle 8 del mattino, nel quale mi si chiedeva perché ancora non avevo risposto, a quello delle 10 di sera. A un certo punto ho preso una storica decisione, ho messo in firma, che a email e telefonate rispondo generalmente tra le 10 e le 16, nei giorni feriali, perché non che io non lavori 16 ore al giorno, ma ho dei momenti in cui ho bisogno di essere sconnessa per il bene dei clienti, non posso fare un lavoro bene se vengo interrotto ogni 5 minuti, e che le telefonate sono ben accette, ma meglio su appuntamento telefonico, e che non uso Whatsapp e Telegram per lavoro. Immaginate, io realizzo in tempi non di lockdown, la comunicazione in tanti eventi, mi sto occupando di live tweeting, e un altro cliente mi manda un video di 50 mega sul cellulare via Whatsapp. Magari in una connessione precaria, in un evento meraviglioso in campagna, mi si blocca tutto. A un certo punto ho messo questa firma in email, l'email è lo strumento che noi inviamo di più, uno strumento di comunicazione favoloso, non possono dire di non aver mai ricevuto una mia mail con questa firma, forse non la leggerà una prima volta, ma la seconda, la terza, la quarta, prima o poi capiterà, infatti molti mi hanno anche detto, ti stavo per chiamare, poi ho pensato che erano a 19, ho letto la tua firma, e io ho detto, bravo, mi hai dato la dimostrazione che funziona, non chiamare, e se chiami non ti rispondo, perché lo so che l'hai pure letta. Ecco, questo messaggio, che quindi di solito non dico a voci, perché alcuni lo prendono in maniera un po' antipatica, però messo in firma, ha avuto un risultato clamoroso, mi chiamano addirittura dei colleghi, che mi hanno detto, la posso copiare? Dico, assolutamente, sono per il copyleft, fate pure copia e incolla. E con questo, insomma, ho finito i miei cinque consigli, più uno.